Forza Italia apre i civici, per ora stringe un patto col movimento Schittulli, Puglia prima di tutto e Capitamata. L'obiettivo, neanche troppo recondito, è farli rientrare nell'alveo di un partito, piuttosto che rimanere in un'esperienza civica, con reciproco vantaggio di rafforzarsi. Oggi Forza Italia apre a tutte quelle esperienze civiche che fanno parte del centro-destra, aprendo le sue porte e proponendo a questi amici di fare un percorso insieme, non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche dal punto di vista politico, su tutto il nostro territorio provinciale. Ci spiega come si concretizzerà questo percorso? Forza Italia apre a questi amici che fanno un'esperienza civica, proponendogli anche un'esperienza all'interno di un partito, quindi porte aperte a chi vuole insieme a noi provare a fare questo tentativo di unione, di intenti, su tutto il nostro territorio provinciale, collaborando su temi che non sono solamente amministrativi, ma anche prettamente politici. Nelle trattative che riguardano per esempio incarichi, deleghe consigliari, come procederete? Io penso che vadano valorizzate tutte quelle professionalità che noi abbiamo in Consiglio Comunale e quindi è giusto che se ci dovessero essere delle deleghe da distribuire vengano presi i migliori. Si cercano di riannodare le esperienze del centro-destra, ci sta lavorando anche area popolare con Franco Di Giuseppe e Forza Italia tende la mano anche ad Angelo Cera. Aspetto una telefonata da parte di Angelo Cera, mi farebbe molto piacere collaborare anche con lui.